C'è un altro attore in questa questione che abbiamo analizzato in questo modo, è il presidente della regione Puglia. Ora, il presidente Nicchi Vendola ha detto che quelli della Lega sono miopi. Lui invece si vede così bene che nel mezzo di una crisi tremenda, una crisi che colpisce anche la sua regione, lui la cosa più intelligente che ha pensato di dire è che ci vogliono più diritti, perché io sono innamorato e mi voglio sposare. Allora, noi auguriamo al paese di riprendersi sperando che Monti se ne vada. Al presidente Vendola, siccome noi siamo fondamentalmente buoni, auguriamo tanta felicità e ci auguriamo che possa presto rimanere incinta, lui o la sua dolce metà scelta, di modo che coronerà il suo sogno d'amore e magari poi si interesserà dei problemi della Puglia e di questo paese. Grazie, presidente. Grazie.